Nell'ambito delle iniziative che fanno da Corona la prossima giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in programma il 25 novembre, l'amministrazione comunale di San Salvo ha organizzato una serie di incontri per sensibilizzare sul tema della violenza di genere in calendario in questo mese di novembre. Il primo appuntamento è lo scorso 15 novembre nella Casa della Cultura in piazza San Vitale. Maria Teresa Di Santo ha presentato il libro edito da Cannarsa dal titolo La mia vita per sempre che raccoglie le testimonianze della violenza subite dalle donne. Questa sera tratteremo della presentazione del libro di Teresa Di Santo, presidente dell'associazione Emili che ha scritto un libro La mia vita per sempre e che gestisce anche il nostro centro antiviolenza qui a San Salvo, qui dentro alla porta della terra. È un tema alla quale l'amministrazione comunale è estremamente sensibile perché coinvolge un po' tutte le famiglie, nessuno escluso e quindi l'impegno che noi vogliamo dare in questo campo è la sensibilizzazione a una nuova cultura, una nuova cultura sociale rivolta alle nuove generazioni, soprattutto al rispetto, al rispetto dell'altro, inteso non solo in quanto donna, ma al rispetto dell'anziano, al rispetto del disabile, al rispetto di chi è portatore di una cultura diversa della nostra. Solo se noi agiamo in questo senso e facciamo un'azione di rete con tutti gli attori del territorio, partendo dalla famiglia, perché ancora una volta è la famiglia dalla quale deve partire questa azione, solo in questo modo possiamo evitare di parlare ancora di violenza sulle donne. È un lavoro maturato con il tempo perché sono dei racconti che hanno un po' segnato la mia vita, da quando ero adolescente a qualche anno fa, quando un po' per caso proprio mi sono venuti questi racconti. Quasi non me ne accorgessi che la penna scriveva queste pagine per raccontare quelle storie che avevano segnato alcuni momenti particolari della mia vita. Particolari perché queste donne comunque hanno lasciato in me un segno indelebile. Ho letto il libro di Teresa Di Santo e l'ho trovato estremamente interessante. È un libro che mi ha dato forte emozioni, scritto in maniera semplice e diretta, dove se da una parte si evince il dolore delle donne che hanno subito violenza, dall'altro è possibile vedere la grande dignità e la voglia di reagire delle donne alla violenza subita. Quindi è un libro che guarda al futuro in maniera positiva e questo è qualcosa che noi tutti dobbiamo cogliere proprio per trasmettere ai ragazzi, alle nuove generazioni, il valore e il rispetto di una cultura positiva verso gli altri e verso le donne in particolare. Sono dei racconti che ho scritto tre anni fa, poi purtroppo per motivi familiari il mio papà si è ammalato, l'ho lasciato in un cassetto così come scrivo nei racconti. Dopo tre anni quasi ho deciso di riprenderli perché volevo dare comunque un senso a quello che un giorno per caso mi sono trovata a scrivere. È nata questa raccolta, La mia vita per sempre. Anche il titolo mi è venuto dal cuore, La mia vita per sempre, per indicare che la vita di queste donne è cambiata per sempre per gli abusi che hanno subito dai compagni, dai fidanzati, dai mariti. Ma il messaggio che voglio dare con questi racconti è un messaggio di positività perché io mi sento una persona positiva, una persona che ha sempre da imparare dagli altri ma che anche nelle difficoltà sa riprendere in mano la propria vita e andare avanti perché una vita migliore ci può essere anche dopo gli abusi. Il messaggio che voglio dare a tutte le donne è che devono comunque denunciare il compagno, il marito ma anche il conoscente che abusa di loro e nello stesso tempo devono prendere la consapevolezza che la dignità della donna è al primo posto, è un valore che non si può dimenticare. Quindi io spero che tutte le donne che leggano questo libro riescano a cogliere questo messaggio di positività. Mi sento di fare un ringraziamento particolare come dico anche nel libro che dedico alle mie figlie perché ho due figlie, una è adolescente l'altra un po' più piccolina e ringraziamento alla mia carissima amica Maria Rosaria Lamorgia senza la quale probabilmente oggi non staremo qui un ringraziamento al mio papà e ad altre persone che comunque sono state fondamentali un ringraziamento veramente di cuore va a tutte le donne che si sono anche alternate nell'associazione di cui io sono la presidente quindi l'associazione Emily che oggi gestisce il centro antiviolenza San Salvo loro per me sono state indispensabili e rappresentano per me un grande valore aggiunto da loro ho imparato molto e devo dire che tutte le donne che ho incontrato che mi hanno portato oggi qui per me rappresentano un grande dono Parte del ricavato della vendita del libro La mia vita per sempre verrà devoluto in beneficenza